bella queste canzoni bella bella io lo ascolto forte siccome fra poco devo andare in palestra quindi voglio fare un po' pernoia allora c'ho la mini cliente che devo fare i vestitini per questa marante che qua oddio è scappata la borsetta poi se volete vi interessa fatemi richiesta cosa c'è nella borsa di cosa le ho cucito il coso li devo cucire anche da qua che questa sta bella bella stretta ho fatto un fiocchetto qua e sto vestitino e con la sua borsellina eccola e volevo fargli anche un ombrello però non so se ci riesco asta marante però con ombrello e la schiena nuda non mi è tanto dopo le farò le scarpette io questa non ce li ha ma su quest'altro su quest'altro vestito non ho più la pazienza che avevo prima non mi è donna mia purtroppo devo farlo devo fare questo vestitino cioè devo farli questi sono i stivali e qua c'ha la mantella anche qua c'è una borsettina io tutti li faccio con le borsettine ma non ho più la pazienza per fare queste cose qua allora vediamo se c'è il muscolo che è andato di meno la pelle beh insomma è sempre qua faccio palestra però questa rimane sempre qua purtroppo non posso fare niente tagami il butto sto anielo perché lo puoi vabbè quindi perché perché non avevo niente da fare beh ho tanto da fare però siccome manca poco per andare in palestra mi cambio e vado via e volevo far vedere sto aufting de Barbie ciao gente